Gara tra Power Ranger e Polo Sud, ultima giornata del campionato del torneo San Nazaro, regular session. Allora, commento tecnico affidato a una special guest quest'oggi del giudice con noi. Sì, Danilo, ciao a tutti. Allora, com'è sta andando questa partita? Una bella partita, dai ritmi alti i Polo Sud riescono a creare più palle e gol grazie a Ciro Napolitano e Cristiano De Riso. Comunque, Molea e Perrilla stanno giocando molto bene. Power Ranger infatti che non stanno demeritando, l'1-0 un po' fortunoso, siglato da De Riso, un tiro deviato dallo Monaco, poi la palla sul palo, poi in Porto, insomma. Power Ranger hanno fatto un girone di ritorno strepitoso. Questo è vero, attenzione però, Napolitano, Avolio, Avolio, il tiro! Gol, che gol! Palla che entra nel sacco, dava anche l'illusione di essere uscita. Avolio, bellissimo questo diagonale vincento, allarga Napolitano il gioco con De Riso che si è portato un uomo sulla sinistra. Avolio tutto solo, l'ha messa nel sacco. Power Ranger, quindi ora adesso dovranno recuperare un doppio svantaggio. Squadra che si è un po' denoralizzata. Cioè, Trolle in avanti sta dando il massimo ma non riesce a concretizzare. Poi, un prestito importante nelle file di Polo Sud, vada a dire Sommella. Un buon portiere del torno San Nazaro. Forse il più forte. Classifica però, regge Nitopi al primo posto. Attenzione Perrella, se ne va sulla destra. Dentro il palone per Cedroler, è invitante. Avolio lo intercetta, lo Monaco controlla che la sfida termini fuori. L'ho Monaco, cercare Mazzucca. Lo mette giù, aggredito da un uomo. Punta Donofrio, lo supera in qualche modo. Cedrola, lo ferma a volio. Laterale, Cedrola, badolato allontana. Alessandro, come la giudichi la prova quest'oggi di Sommella? Sta giocando bene, soltanto che sta rischiando di fare una buccia a inizio partita. Però si sta comportando bene, anche se non ha avuto palle goal pericolose. Se andiamo a Cedrola in avanti, ha battuto forte, tesa, Perrella, Perrella ancora lì. Blocca in qualche modo Sommella, ha rischiato. Sommella, gittata lunga, arriva da Paoli. Paoli segue il rilancio, ultima azione, vediamo, Perrella. Allarga il gioco, Mazzucca in avanti. Cercare Molea, la può mettere in mezzo. Molea contro Badolato, palla che arriva a Cedrola. contro Napolitano, ancora Cedrola, fallo e interrompiamo il nostro collegamento. Doppio vantaggio di Polo Sud, 2 a 0, i danni di Power Ranger.